Pasquale Marino, presidente della Turris, torneato al successo dopo due stop di fila, una prova combattiva, avete interpretato subito bene la gara, Cini ci sottoporte, il passivo poteva essere anche più ampio, però avete battuto un Real Guglionesi che comunque le sue occasioni le ha create. No, no, assolutamente, la partita è stata molto interessante veramente dal punto di vista calcistico, il Real Guglionesi si è comportato molto bene in campo, anzi ci ha messo comunque in difficoltà, siamo riusciti a sbloccarla subito, penso che questo sia stato un vantaggio per noi anche perché ci siamo portati subito sul 2-0, poi ovviamente abbiamo gestito al meglio la partita, siamo stati bravi, molto bravi a gestire il risultato nel secondo tempo e poi alla prima occasione utile a passare sul 3-0. Una squadra che rispetto all'anno scorso, grosso modo, ha mantenuto la stessa statura e si è vista, i ragazzi in campo si conoscono, il mister è stato confermato, che campionato vi aspettate? Ma la nostra politica era quella comunque di conservare uno status quo della squadra, quindi lo zoccolo duro dell'anno scorso che noi abbiamo riconfermato, ma è una politica che ci portiamo avanti ormai da cinque anni, almeno da quando sono presidente io il progetto è stato quello di crescere man mano insieme ai ragazzi e ovviamente mettere i tasselli giusti al posto giusto, questa è stata la nostra politica fin dall'inizio di questa avventura. Riusciamo a gestire la situazione, insomma siamo sempre una neopromossa, quindi ovviamente dei obiettivi non ne possiamo parlare, però insomma cercheremo di giocarcela con chiunque, al meglio diremo la nostra in qualche modo.